A Salerno c'è il rischio concreto di una rivolta sociale e l'allarme lanciato senza mezzi termini da CGL pensionati e feder consumatori che hanno organizzato un presidio davanti alla prefettura. Tra speculazioni sui prezzi e bollette insostenibili, sempre più famiglie sono ormai a rischio povertà. La piazza per dare una mano e per tentare di venire incontro a centinaia di migliaia di pensionati che con una pensione di 600 euro al mese devono traguardare tutte le spese che ci sono a fronte di una condizione che ha un'inflazione dell'8% e basta entrare in un supermercato per vedere che cosa sta succedendo. Ci sembra utile ed opportuno che si venga incontro a queste persone e che si risolvano i problemi prima che vadano in una fascia di povertà assoluta centinaia di migliaia di pensionati in questa regione. Di qui la necessità consegnata al prefetto di Salerno Francesco Russo di chiedere alle istituzioni di mettere in campo iniziative urgenti per aiutare le fasce in difficoltà. Ci sono da parte nostra delle indicazioni su come andare avanti, però il caro Bolletti, il caro Vita non si arriva alla terza settimana, io dico non si arriva più alla seconda settimana, è un dato allarmante che le istituzioni sul territorio devono sapere.